Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli Il programma è realizzato in collaborazione con Estra e Lega Ambiente Allora ridi e scherza cara Greta siamo arrivati a un bel traguardo no? Giusto? Siamo alla quinta puntata di questa bella esperienza insomma veramente un territorio sul quale io francamente non ero mai andata e quindi dobbiamo davvero ringraziare Estra e Lega Ambiente insomma che ci hanno portato su questo modo anche di fare comunicazione che credo sia molto diverso rispetto a quello diciamo tradizionale che abbiamo tutti e due forse anche te Massimo insomma fatto fino adesso Siamo un pochino nuovi rispetto ai social network che diciamo dobbiamo constatare stanno ci stanno gratificando non poco E allora ricordiamo la nostra pagina Facebook delle buone pratiche dalla quale state vedendo proprio questa diretta Facebook dai studio ovviamente di Radio Fly quindi potete insomma attraverso questa pagina seguire quelli che sono gli argomenti che andremo a trattare e soprattutto seguirci in diretta proprio in questa puntata Allora in questa puntata dopo chiaramente saluteremo anche i nostri ospiti parleremo di raccolta differenziata quindi un tema di strettissima attualità sono piene le cronache di varie città in particolare in particolare in questi giorni Roma è al centro di molte polemiche proprio perché questa non è una novità insomma anche se qualche giornale la fa passare come una novità forse perché infieriscono sulla giunta raggi comunque sta di fatto che Roma è invasa dai rifiuti e questo è un tema che ci deve stare particolarmente a cuore come sempre Allora in realtà ovviamente parleremo del perché è importante fare la raccolta differenziata soprattutto insomma passare questo messaggio ai più piccoli perché i ragazzi e i bambini sono il nostro futuro ecco perché questo progetto del Comune di Arezzo e di Legambiente si chiama proprio Scuole per l'Ambiente quindi diamo il benvenuto nei nostri studi a Chiara Savarino Ufficio Comunicazione Legambiente Arezzo e a Alessandro Artini che è il dirigente scolastico e il preside dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo Buongiorno Benvenuti a tutti e due Allora il titolo già racconta molto di questa buona pratica Chiara perché Scuole per l'Ambiente vuol dire insomma prendere davvero per mano questi ragazzi e cercare di insegnare prima a loro e poi forse anche riportando il messaggio nelle famiglie l'importanza della raccolta differenziata è così? Assolutamente sì lavorare con le scuole è sicuramente un obiettivo importantissimo che non solo abbiamo noi come Legambiente ma tantissime altre realtà proprio perché l'educazione ambientale e la consapevolezza partono dalla scuola e così ai docenti e alle famiglie quindi è diciamo una rete che si crea partendo proprio dai più piccoli perché è da veramente da molto piccoli che già si crea una consapevolezza una sensibilità che insomma è fondamentale per il futuro e quindi sicuramente l'educazione ambientale è un tema molto importante Scuole per l'ambiente è il progetto che abbiamo creato nel 2012 con il comune di Arezzo vuole proprio questo vuole sensibilizzare i ragazzi, gli studenti di tutte le scuole del comune si parla di 75 scuole quindi tantissime tantissimi bambini e ragazzi perché ovviamente si va dai nidi alle scuole superiori quindi è veramente molto importante ecco poi bisognerebbe che gli adulti insomma non dessero il cattivo esempio perché voglio dire oggi veramente purtroppo insomma i grandi come dire rovinano un po' quello che è invece il messaggio che forse insomma veicolare ai ragazzi è molto più semplice no? Assolutamente cioè la gestione dei rifiuti dobbiamo capire tutti quanti è veramente a un costo elevato sia da un punto di vista economico ma sia da un punto di vista ambientale e di salute proprio pubblica gestirla nella maniera corretta è un nostro dovere cioè non possiamo più far finta di niente e non occuparci del tema è veramente troppo importante per tutti noi quindi gli adulti dovrebbero assolutamente dare il buon esempio spesso invece succede il contrario sono i bimbi che insegnano ai genitori e alle famiglie a comportarsi correttamente ecco leggevo appunto che la soglia sarebbe del 70% dei rifiuti riciclati entro il 2020 quanto siamo lontani? sarebbe almeno il 50% proprio una direttiva europea che si è posta a questo obiettivo entro il 2020 di raggiungere il 50% almeno di rifiuti riciclati noi in Italia ovviamente purtroppo siamo ancora un pochino indietro manca forse una questione culturale non so una sensibilità in questo tema siamo intorno al 30% circa Arezzo ecco insomma si deve dare più da fare sicuramente però i dati sono in aumento, in miglioramento quindi forse grazie anche alla raccolta porta a porta insomma sicuramente ci sono delle attività che sono state fatte per facilitare anche le persone a fare la raccolta differenziata una volta che si parte poi il meccanismo parte nelle famiglie è difficile poi non farla più perché si capisce quanto è importante per tutti noi sì sì sono delle abitudini che insomma basta prenderle credo che non ci sia allora dovremmo collegarci a breve con Berlingozzi se non sbaglio che è appunto Paolo Berlingozzi il direttore dell'ufficio ambiente del comune di Arezzo che magari avrà seguito assieme all'Ega Ambiente questo progetto ma nel frattempo che aspettiamo questo collegamento telefonico volevo chiedere al preside dell'ITIS allora perché la vostra scuola si è distinta? perché oggi raccontiamo questa buona pratica? le ragioni sono molteplici ed è persino difficile elencarle tutte io sottolineerei questo anzitutto una forte sensibilità da parte del corpo docente verso questo tema e poi direi tutto il settore biologico, sanitario, biologico, ambientale che è parte essenziale della scuola stessa tant'è che dalla nostra scuola partono anche degli alunni che poi frequentano medicina ad esempio e quindi direi che è stata questa sensibilità iniziale dei docenti che ha dato il là a tutto il percorso che poi successivamente la scuola ha intrapreso e che sta assortendo dei frutti rilevanti non sono io a dirlo, sono gli altri ecco, lei dice che è un po' inserito non so se ho capito bene il messaggio è un tema che è un po' inserito anche nel nostro percorso di studi cioè nell'offerta formativa che l'istituto offre se non sbaglio però insomma in un progetto bisogna crederci come diceva giustamente lei sono progetti che magari sottraggono tempo sia al corpo docente che ai ragazzi che anche alle gambiente insomma tempo libero per impegnarsi in questo progetto quindi insomma sicuramente è un qualcosa in più che insomma dà lustro al vostro istituto grazie se posso sottolineare un aspetto didattico che per me è essenziale è questo cioè il fatto che i docenti si sono mossi con una progettazione molto interattiva molto coinvolgente nei confronti dei giovani che vuol dire? ce lo spieghi? ce lo faccia capire in radio se si può? guardi, molto semplicemente noi conosciamo una scuola tradizionale che è quella del docente che ex cattedra tiene la lezione gli alunni recepiscono prendono appunti poi la volta dopo magari sono interrogati o fanno dei compiti in classe questa è una modalità sostanzialmente trasmissiva di fare lezioni altra modalità è quella che pone i ragazzi per esempio all'interno del laboratorio di fronte a sostanze chimiche mostra gli esperimenti li fa compiere ai ragazzi stessi invita i ragazzi a fare delle scelte in merito ai percorsi ovviamente sotto la guida dell'insegnante perché l'insegnante non dismette mai il proprio ruolo che è fondamentale questa è una modalità anche di natura interattiva non trasmissiva che mette anche in discussione il carattere enciclopedico del sapere che troppo spesso viene offerto dalla scuola italiana agli alunni e che non consente agli alunni di elaborare un metodo di selezione tra gli argomenti trattati e affrontati adesso abbiamo la preziosa testimonianza di Paolo Berlingozzi del comune di Arezzo ufficio per l'ambiente salve Berlingozzi buongiorno benvenuto benvenuto in trasmissione ovviamente noi stiamo parlando delle buone pratiche da questo punto di vista insomma della raccolta differenziata e quindi della sensibilità verso l'ambiente che ci circonda il rispetto verso l'ambiente in cui viviamo ecco leggevo che si va dai nidi alle scuole superiori quindi insomma questo progetto abbraccia veramente tantissime fasce di età giusto quindi il comune di Arezzo si è impegnato per portare questo progetto appunto proprio dai piccolissimi fino ai ragazzi più grandi certo prima erano 77 complessivamente i nidi e la scuola media che erano interessati da quest'anno anche le superiori siamo arrivati a 90 istituti quindi un bel impegno anche per gestire insomma questo progetto all'interno perché poi immagino che ecco dal punto di vista del comune di Arezzo che tipo di impegno avete chiesto tra virgolette in più a chi poi ha seguito questo progetto l'impegno è quello di Sei Toscana più che altro che ci ha aiutato a fornire il materiale per la raccolta i contenitori e che effettua la raccolta di questo materiale che viene prodotto differenziato dagli alunni dagli studenti quindi insomma i raccoglitori insomma tutto quello che serve per far passare questo messaggio i contenitori che servono per raccogliere i diversi tipi di materiali che vengono differenziati per essere poi recuperati Ecco questo progetto di riduzione dei rifiuti come sta procedendo che sappiamo che è stato varato all'incirca nel 2012 se non vado errato Sì è stato varato nel 2012 e abbiamo dei dati che hanno valenza fino all'anno scorso e sono in continuo aumento le quantità che gli studenti e le scuole hanno raccolto Ci può fare qualche esempio? Si parla di 20 Sì mi dica? No no si stava già facendo senza la mia domanda qualche numero se è possibile Sì diciamo che si tratta di 20.700 kg di carta e il multimateriale sui 7.000 kg quindi 7 tonnellate e 20 tonnellate Le 20 tonnellate di carta insomma in una scuola forse è anche semplice raccoglierle però effettivamente insomma questi ragazzi hanno risposto in tutte le scuole ecco in tutte le scuole nel complesso ecco ecco e lei ci diceva sono nelle 90 scuole ecco sono aumentati queste tonnellate insomma sono andati aumentando dal 2012 erano 6 tonnellate poi siamo passati a 10 poi a 15 ora 20 e quest'anno non abbiamo ancora il dato aggiornato del 2017 che deve essere ancora calcolato ma siamo sicuramente molto sopra vicino alle 30 tonnellate ecco mi permette una domanda rispetto alle altre realtà del centro Italia noi Arezzo come si posiziona a livello di di raccolta di finanziare guardi questo progetto scuole per l'ambiente e altri progetti di di riduzione dei rifiuti eccetera hanno visto partecipare il comune d'Arezzo a un concorso ed è arrivato quarto nel centro Italia su questi tipi di progetti quindi diciamo che siamo ottimo risultato insomma a un buon risultato ottimo più che buono direi ottimo sì come come progetto sì come poi come raccolta differenziata in assoluto nel comune ci sono alcuni comuni che ci superano di di gran lunga insomma sì sì questo questo sì noi non lo volevamo dire per carineria però sappiamo che ci sono alcuni tanto lavoro ancora c'è da fare però il comune di Arezzo è anche quello più grande quindi comunque voglio dire sarà anche per quello che magari la percentuale ancora non è così alta insomma rispetto a comuni molto più piccoli mi immagino che possa essere un motivo sì indubbiamente la problematica è più complessa per le dimensioni del comune e anche per il tipo di raccolta che il nostro comune in questo momento sta ristrutturando ma ha un'organizzazione abbastanza complicata perché abbiamo un tipo di raccolta per il centro storico un tipo di raccolta per una fascia periurbana la raccolta del centro storico è un porta a porta la periurbana è anche un pochino più difficoltosa vero? dicevo stradali e poi ci sono tre aree periferiche che hanno di nuovo il porta a porta e quindi è abbastanza complicato organizzare questi tipi di raccolte differenziate con tutti questi peculiarità che ogni località si trova ad affrontare ecco noi oggi abbiamo appunto ospite il preside dell'ITIS e poi nella seconda parte sentiremo anche un docente alcuni ragazzi magari potrebbero prendere esempio tra virgolette da questa buona pratica insomma all'interno dell'ITIS su insomma come portare i ragazzi le famiglie insomma a fare una raccolta differenziata corretta beh guardi ora ne parlerà ma io credo che anche l'ITIS partecipi sì 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 è qua con noi a raccontare questa esperienza ne parlerà dopo di me la professoressa a bordo è anche con maggiore competenza però io vorrei fare un solo esempio che riguarda proprio la professoressa in questione prima di Natale noi ci siamo divertiti ad organizzare una mostra degli arredamenti delle aule creati con materiale riciclabile e diciamo così i ragazzi si sono davvero sbizzarriti anche con una notevole fantasia creatività la classe che ha presentato diciamo così i migliori risultati ha avuto un premio che poi c'è stato a nostra volta offerto dal signore che vende i panini all'interno della scuola hanno avuto quindi un panino gratis per una settimana eh però mica male mica male butta via questo ha rappresentato una piccola motivazione ma i ragazzi hanno capito intanto la concorrenzialità non in termini di rivalità negativa ma finalizzata proprio da parte di ciascuna classe ad esprimere la fantasia la creatività e anche il divertimento e in questo modo ha funzionato peraltro voglio dire che eh la raccolta in Italia non va molto bene in generale ma dal punto di vista della raccolta della carta l'Italia è un'eccellenza o quasi in questo ambito mi chiedo siccome nelle scuole si consuma davvero tanta carta se diciamo così il ruolo delle scuole a questo fine non sia stato davvero fondamentale ecco eh secondo me sì perché poi ecco i numeri che ci ricordava l'ingegnere insomma sono numeri importanti però ricordiamo se non sbaglio se non ho capito male riguardano solo il comune capoluogo quindi magari se questo progetto magari ecco potesse essere esteso anche a ovviamente prendendo esempio da questa buona pratica che noi oggi raccontiamo magari insomma queste tonnellate potrebbero lievitare ancora di più salutiamo l'ingegnere Berlingozzi ringraziamo il suo intervento ingegnere grazie per essere intervenuto grazie a voi grazie a voi alla prossima buona giornata ovviamente alla prossima occasione sicuramente ci sarà ecco chiara dicevamo appunto noi stiamo dando dati numeri raccontando questa buona pratica che è concentrata proprio sul comune capoluogo magari ecco sulla scia di questo esempio potrebbe essere estesa anche agli altri comuni siamo qui per questo proprio perché diffondere queste buone pratiche sicuramente penso sia l'obiettivo primario di tutti l'esempio dell'ITIS l'abbiamo portato apposta proprio perché abbiamo lavorato veramente bene con loro è un istituto che ha subito raccolto questa iniziativa con molto entusiasmo e quindi ci piaceva magari anche che fosse un esempio da replicare i ragazzi proprio volontariamente si sono applicati anche con appunto idee creative per diffondere perché l'obiettivo è sensibilizzare su questo tema aumentare la raccolta differenziata nelle scuole come si può fare in tanti modi anche quelli più creativi non solo la classica appunto lezione sull'importanza di farlo ma farlo veramente in maniera alternativa ecco volevo capire dal punto di vista proprio delle informazioni qual è stata l'informazione che i ragazzi hanno accolto con più sorpresa dice questo oggetto deve finire qua e io non lo sapevo ma sono tante le curiosità molte cose non si sanno il tetrapak per esempio è uno sconosciuto che rimane sempre lascia sempre un po' dove va buttato il tetrapak e tutti si guardano beh sembra carta quindi nel cartone la carta e invece no almeno nel comune di Arezzo viene riciclato insieme al multimateriale perché è composto da vari tipi di sostanze la mia bambina preferisce per colazione pane e mortadella come dargli torto ecco la carta del pane e mortadella un po' unticcia dove finisce? la carta proprio perché di solito i panini sono incartati o con la carta argentata che sarebbe appunto l'alluminio e quello nel multimateriale anzi è un materiale preziosissimo l'alluminio si può riciclare all'infinito e quando si spiega ai bambini e soprattutto i più piccoli insomma quante cose si possono fare con le lattine riciclate quindi diventano delle risorse rifiuti non sono più una cosa da gettare ma ci si ricreano le cose quindi è molto affascinante allora noi dobbiamo fermarci perché il tempo scorre queste sono le frasi fatte di chi da una vita come noi fa questo mestiere e poi lo studio si infittisce di ospiti quindi c'è il cambio della guardia un attimo restate con noi tra poco Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale ambiente energia sostenibilità responsabilità sociale di impresa inclusione formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli il programma è realizzato in collaborazione con Estra e Lega Ambiente ed eccoci di nuovo in diretta nel bel mezzo di un trasloco cara ecco siamo questo è il bello della diretta come diceva Gianni Minà una volta ci teneva particolarmente compagnia ci manca a tutti noi ovviamente stiamo 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 facendo un po' di punto della situazione stiamo parlando soprattutto fondamentalmente di raccolta differenziata intanto c'è anche allora c'è il toto il toto trespolo ve lo dico cos'è il toto trespolo cioè chi finisce sul trespolato chi ci finisce Massimo ci finisco io ci finisci te ci vado io va bene ok mi trespolizzo io ecco scusate ma d'altra parte siamo tanti meno male dico io io essendo basso di statura sul trespolato hai acquisito tengo la situazione sotto controllo va bene potevo anche trespolarmi io ma non è un problema va bene allora siamo nella seconda parte quindi diamo il benvenuto poi ovviamente quello è il vostro microfono alla docente aiutatemi con la scaletta ecco la professoressa Bordo intanto benvenuta ecco e invece allo studente che si chiama Giovanni Manella perfetto allora ce l'abbiamo fatta il cambio ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta siamo sopravvissuti a questo cambio veloce quindi sentiamo la testimonianza prima della professoressa ecco di questo modo come ci diceva prima il preside insomma di coinvolgere i ragazzi quindi non dalla cattedra in avanti ma quasi come se questo messaggio fosse un po' restituito al mittente sì sì credo che questo sia proprio il successo dovuto proprio il successo sia dovuto proprio a questo cioè quando ci siamo incontrati con l'ambiente con Francesca con Chiara abbiamo ci siamo posti questo problema come poter riuscire in questo nostro obiettivo grande cioè differenziare organizzare una differenziata in una scuola come la nostra grande di circa 1700 alunni 250 tra personale docente e non docente un paese un paese il mio paese di origine ha 2000 abitanti ecco quindi ci siamo confrontati abbiamo detto bisogna che i ragazzi siano i protagonisti quindi siano loro i formatori dei loro coetanei ma anche di tutta la popolazione scolastica e quindi il progetto è stato proprio costruito da loro realizzato da loro e sviluppato poi in itinere da loro da loro l'idea meravigliosa per esempio del Natale differenziato di quest'anno queste aule 78 aule non sono poche addobbate con quella che noi chiamiamo immondizia in realtà i ragazzi hanno avuto modo di vedere che potevano essere i rifiuti potevano essere addirittura presi per abbellire la propria classe tutte idee nate dai ragazzi io Francesca e Chiara siamo stati registi di questa esperienza quindi loro hanno proprio organizzato dalla fase progettuale alla realizzazione di tutto questo progetto un gruppo ristretto di ragazzi perché circa una trentina trasversale cioè di tutte le classi di tutti gli indirizzi dalla prima fino alla quinta tutti i vari indirizzi della nostra scuola che ha lavorato sodo si è impegnato però ci credeva e quindi siamo arrivati a risultati veramente buoni per cui possiamo dire probabilmente che è una buona pratica da poter esportare allora per quello che riguarda Giovanni Mannella io leggo che questo gruppo di studenti ha sostituito come diciamo movimento sperimentale lo possiamo chiamare così le buste di plastica utilizzate per le liste dei panini con buste di stoffa riutilizzabili provenienti da Sei Toscana beh sì considerando che le buste siamo 78 classi all'incirca quindi ci sono 78 buste di plastica ogni giorno per 200 giorni 300 giorni sono un numero elevatissimo perciò con delle semplici buste di stoffa che ci ha dato la Sei Toscana abbiamo abbattuto intanto il problema delle buste di plastica quindi una per ogni classe che ogni volta fa la spola tra il venditore dei panini e la classe che davvero fa la differenza ok e questa è stata già una prima una prima idea insomma che è nata un'altra secondo me grande idea comunque è stata quella di realizzare non tanto realizzare più che altro sistemare dei contenitori in mezzo ai corridoi dove gli alunni stessi potessero buttare i rifiuti che prima però erano in classe cioè quindi solitamente questa raccolta avveniva dentro le classi magari anche con un po' di confusione invece più che altro l'abbiamo fatto per acevolare il personale ATA eh certo che se no tutte le volte doveva magari buttare l'indifferenziato in un cestino la carta portarlo da un'altra parte il multimateriale da un'altra allora noi abbiamo dimezzato il loro lavoro possiamo dire quindi loro si ritrovano esatto così insomma quando c'è da fare qualche fotocopia in più sono più alleggeriti prof e volevo sapere che voto gli diamo questo 10 l'8 magari ecco un voto un pochino più critico però lo diamo a tutti quei genitori che hanno questa maledetta abitudine di portare roba ingombrante ai bidoni della spazzatura la mattina ci troviamo di tutto se uno fa il giro la mattina alle 8 ad adesso Greta ci prende male ora io dico perché deve essere un genitore eh no scusa io devo capire perché deve essere un genitore magari è uno che i figli non ce l'ha no scherzo era per difendere la categoria però sicuramente tuttavia ecco ora i genitori avranno modo di essere educati dai loro figli infatti questo lavoro è importante proprio per questo eh sì c'è questa buone pratiche secondo me da esportare non solo in altre scuole ma anche in famiglia perché spesso purtroppo ahimè si assiste a scene di quel genere con grande segnalazioni a me ne arrivano tantissime con grande una cosa di questo genere qui ne arrivano 3-4 a giorno anche la mia sarà arrivata forse e senti Giovanni non ti ho ribattezzato meno male quando parlava di Natale come era? Natale differenziato come avete fatto allora sono proprio curiosa perché a me poi piace molto tagliare e incollare a casa e quindi volevo capire come avete fatto questi il gruppo il gruppo ha ideato questo progetto dopodiché con una semplice comunicazione che abbiamo fatto passare in tutte le classi abbiamo solo cioè abbiamo posto solo delle regole usare materiale riciclabile però non avete non avete detto questo materiale non si usa qualunque materiale che potesse essere riciclato interno alla scuola ovviamente non portare da casa ecco quindi che era tutto ciò che è un rifiuto era un rifiuto e secondo me la la ricompensa è stato anche un po' il motivo per cui tutti hanno aderito però anche il panino gratis il panino gratis per una settimana il famoso panino gratis è stato proprio vabbè che non si butta mai via esatto però è stato un motivo per per magari sensibilizzare di più tutti gli studenti ecco tu a casa avevi avuto esperienze di magari con i genitori insomma con il tuo io personalmente fino alle dall'elementari ho sempre avuto maestre e poi successivamente professoresse che mi hanno molto sensibilizzato forse anche per questo adesso faccio parte di questo gruppo collega ambiente può essere sì però però non tutti secondo me hanno avuto la mia stessa fortuna perciò è giusto portare anche i tuoi poetanei su questa strada caro Massimo c'è da dire Greta che posso aspetta aspetta che ti passo sul microfono c'è da dire che effettivamente i ragazzi di oggi sono in questo senso più sensibili forse perché hanno molto più accesso alle informazioni rispetto alle generazioni passate quindi basta veramente poco per suscitare subito la loro attenzione e la loro sensibilità su questo tema una cosa molto interessante che si è sviluppata all'ITIS ma non solo in tante scuole dove abbiamo fatto tanti incontri insomma sia di sensibilizzazione che di informazione è quello che ad esempio le loro idee ancora prima di riciclare erano volte a ridurre i rifiuti cioè hanno ridotto il consumo dei sacchetti di plastica perché? perché le famose 4R che si è posta all'Unione Europea quindi anche l'Italia sono proprio queste la prima in assoluto è ridurre i nostri rifiuti ne produciamo troppi ancora prima di riciclarli ovviamente che quello è sicuramente un passo successivo nel momento in cui il rifiuto c'è va riciclato però ancora prima va ridotto questo purtroppo nella nostra società è una cosa che ancora ci torna un po' strana siamo troppo consumisti produciamo troppo consumiamo tantissimo quindi dobbiamo un attimino ripensare i nostri consumi riducendoli e quando è possibile riutilizzare le cose che abbiamo acquistato come poi facevano i nostri nonni no? cioè un barattolo di vetro prima durava tantissimo ci si faceva tantissime cose oggi si tende una volta usato a buttarlo va bene buttarlo nel vetro sicuramente però ancora prima insomma cerchiamo di riutilizzarlo io ci faccio le candele dopo la marmellata quanto incidono quanto incidono i social network in questa campagna di sensibilizzazione lo volevo dire troppo presto insomma no tantissimo i mezzi di comunicazione soprattutto questi che sono più giovani più veloci sicuramente più diffusi aiutano tanto a trasmettere questi temi questi messaggi i ragazzi in primis ci seguono nella nostra pagina di Legambiente Arezzo ma non solo insomma spero anche nella nuova pagina delle nuove le buone pratiche perché è importante condividere e nel momento in cui capisci l'importanza di fare una pratica come questa ti viene naturale condividerlo con gli amici con la famiglia cioè bisogna iniziare anche a a far proprio questi messaggi capire perché è importante ragazzi sicuramente il premio aiuta a fare buoni comportamenti buone pratiche però ancora prima di questo nel momento in cui capisci che con un piccolo gesto puoi avere un grosso impatto ambientale un grosso impatto sulla salute tua del pianeta insomma ti rendi conto di quanto potere hai come consumatore nella vita di tutti i giorni questo fa la differenza ti hai detto una cosa prima che mi ha colpito particolarmente hai detto siamo consumiamo troppo però siamo spinti a consumare sempre troppo dovunque ci giudiamo televisione radio cartellonistica tutti ci spingono a consumare sempre di più e poi per non parlare io per esempio prendo l'esempio i telefonini i telefonini sono programmati per durare 4-5 anni poi la mia collega mi deve spiegare come mai ancora un iphone 5 non lo so perché io ho dovuto buttarlo via comunque anche dietro le quinte hanno lo stesso telefono purtroppo non siamo aiutati in questo ovviamente si tratta di business economia e quant'altro ci sono tanti interessi dietro anche le cose che consumiamo durano molto meno rispetto a anni fa la tecnologia è molto più veloce sono programmati per durare meno però se noi eccoci ci stiamo un pochino più attenti sicuramente possiamo ridurre tantissimo quello sì io quando vado a scuola con i ragazzi faccio un esempio banalissimo però per dire le bottigliette d'acqua in classe o che se ognuno di noi consuma ogni giorno non si possono riutilizzare all'infinito perché quella è plastica fatta per durare poco io ho comprato una borraccia di alluminio anzi no scusa di acciaio inox che dura di più e gli utilizzo la ricarico con l'acqua del rubinetto che ad Arezzo è buonissimo infatti quando ci siamo contati la prima volta ho detto che diavolo costa tanto però è buona ottima ecco io col costo di una borraccia ho fatto un calcolo elimino abbatto insomma circa 100 bottigliette di plastica l'anno io semplicemente come Chiara se lo facciamo tutti insomma già questo è una riduzione della plastica notevole insomma sono piccoli gesti che veramente però aprono un mondo e nel momento in cui ti rendi conto di questo è impossibile non fare qualcosa volevo capire prima il presidente ci diceva arredi della scuola con oggetti riciclati che cosa avete pensato mi incuriosiva molto capire sinceramente un po' di tutto da pupazzi di neve a renne renne slitte di babbo natale con i cartoni con che le avete fatte con cartoni cartoni bicchieri bicchieri soprattutto delle macchinette del caffè che quelli ce ne sono moltissimi da che vanno a finire nella plastica insomma certo tappi delle bottiglie tutto 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 quello che potete immaginare ci abbiamo fatto poi ogni indirizzo ovviamente ha personalizzato il proprio addobbo per esempio una classe che poi è risultata tra le vincitrici sono state tre le classi vincitrici una per ogni sede ha addobbato la sua classe l'indirizzo elettrotecnico con i rimasugli dei fili elettrici che devono essere smaltiti come rifiuto e hanno fatto un addobbo bellissimo tanto è vero tutta la classe aggiuntando con tanta pazienza ringraziamo anche i collaboratori docenti che hanno dato il loro contributo con tanta pazienza hanno addobbato con questi fili molto belli molto colorati la loro classe poi c'è stato questo aspetto di personalizzazione in base all'indirizzo siamo ai saluti finali i rimasugli dei cavi radio e televisione poi tiranno anche questa è una frase fatta questo è allora io non so io non ho studiato questa settimana confesso quindi dovremmo annunciare l'argomento della prossima settimana vediamo se ci danno un aiuto da dietro le quinte ma io non ho studiato e quindi anche io uso internet siamo qui ecco anche io uso internet esatto io non avevo studiato io no confesso c'è la professoressa ma puoi mettere un bel 5 perché non avevo studiato anche io uso internet che è un progetto molto bello molto interessante per portare appunto le nuove tecnologie se non sbaglio agli over 65 quindi insomma ecco io invece in questo caso avevo seguito la conferenza stampa in estra e quindi insomma noi siamo sempre un passo avanti un passo avanti un passo avanti e guardiamo il futuro tenete presente che insomma lo scoglio duro di coloro che non adoperano internet sono proprio quelli intorno ai 60 60 anni io sono proprio quasi al limite perché sabato ne compio 57 no ma ancora non fai parte del progetto no no ho fatto fatica ma insomma sono diventato non ipertecnologico però tecnologico però insomma la generazione dopo la mia insomma fa parecchia fatica quindi questo è un progetto molto molto interessante sicuramente allora ne parleremo la prossima settimana ringraziamo Chiara per Lega Ambiente la professoressa Giovanni il preside dell'istituto ovviamente sempre come al solito estra Lega Ambiente per averci portato in questo bellissimo territorio delle buone pratiche ci vediamo la prossima settimana grazie a tutti ciao ciao Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale ambiente energia sostenibilità responsabilità sociale di impresa inclusione formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli il programma è realizzato in collaborazione con Estra e Lega Ambiente di Settimelli